Nel fine settimana la situazione sull'Europa centrale sarà di alta pressione, mentre sui Balcani avremo una depressione. Questo farà sì che sulla nostra regione affluiscano correnti da nord-est secche. Quindi per il fine settimana avremo una situazione di cielo in genere sereno, poco nuvoloso, sarà possibile solo qualche temporaneo nuvolamento locale. Temperature massime per quanto riguarda la giornata di sabato di 30 gradi in pianura e anche sulla costa avremo temperature piuttosto alte, però l'umidità sarà decisamente più bassa rispetto ai giorni precedenti, quindi l'aria sarà secca e quindi l'atmosfera più gradevole. Per quanto riguarda domenica temperature in abbassamento di un paio di gradi, quindi le massime arriveranno intorno ai 28 gradi in pianura, intorno ai 26-27 sulla costa, con brezza sulla costa. Per quanto riguarda l'inizio prossima settimana, cielo sereno con temperature che gradualmente ritorneranno ad aumentare per ripassare i 30 gradi nella giornata di martedì. Dall'Osservatorio Metrio e giornale dell'ARPA, un saluto da Marcellino Salvador.